Anche se tu forse non lo sai, anche se hai la sensazione di amare un altro uomo, io ti amo con tutta la mia amica. Perdonami. Ma di cosa? Ho le idee così confusa, ti prego non fare caso quello che dico. Sì, non direi altro, io ti capisco, davvero. E comunque sia chiaro che non ho nessuna intenzione di divorziare. E quello che vorrei è invece un'altra cosa. Niente più equivoci, d'accordo. Ma chi è quella gente? Io non lo so, non lo so chi sono, io so solo che sono pericolosi, tutto qui. E perché non glielo diamo l'orologio? Te l'ho detto, perché in realtà è un portale. Che vuol dire portale? È una parola straniera? No, 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 deve essere una specie di codice. Tu dici portale, ma poi significa un'altra cosa. No, no, vedi, un portale è un portale, è un dispositivo dove sono in gioco grandi quantità di energia e forse è proprio questo che interessa a quella gente, se penso ai mezzi che utilizzano. Che cosa vuoi dire? Ecco, spiegati meglio perché noi non abbiamo ancora capito niente. Sì, c'è un'altra cosa importante che voi dovete sapere, sono stati loro a prendere il munito. No, no, in serio? No, no, state tranquilli perché ho fatto in modo che nessuno qui corra più dei rischi, quindi non preoccupatevi. E che altro hanno fatto? Hanno fatto del male a tante persone, spesso mi hanno minacciato e Charlie doveva tenermi d'occhio, ma ora è finita, finita. Hanno fatto del male anche a te? No, no, tesoro, no, no, né a me, né a nessuno qui, anche perché loro hanno bisogno di noi. Ora capite perché volevo che rimaneste sempre in casa e sapere dove andavate. Sì, perfetto. Mio padre c'entra qualcosa. Ma Tiago! E Bartolomeo? Ecco, sì, c'è una cosa che non ti ho mai detto perché pensavo fosse molto meglio per te non saperlo. Bart è scomparso dalla clinica. Ma come? Non è possibile? Il fatto è che non ho ancora idea né di come sia scomparso, né di dove possa essere andato, e comunque è praticamente un bambino se lo paragoniamo alla gente che è coinvolta in questa brutta storia. Ragazzi, io vi ho raccontato tutto questo per informarvi, non per spaventarvi. Ora dobbiamo restare uniti. Se resteremo uniti andrà tutto bene. Fidatevi di me. Non ce la faranno contro tutti noi. Dobbiamo soltanto resistere. Gli impianti non ricevono le nostre onde. Lo vedo, imbecille, io voglio sapere il perché. Parla. Quei due stanno per prendere l'aereo. Cosa? Stanno rientrando, Franca. No, invece non rientreranno e tu sarai responsabile in caso di un'acqua. Chiaro, bloccati in qualunque modo. Ok, procedo. Ricordati che c'è un gioco con la tua testa. Non è successo niente ai ragazzi. Un buco nell'acqua. Ehi, l'ha sentito? Che cosa è successo? Ecco io. Chi è che vuole una tisana calda? No, grazie. Adesso ci puoi lasciare, Soli, per favore. Grazie. Avanti, raccontami. Volete forse che vi porti qui a Speranza? No. Potreste giocarci. No, no. Grazie, la bambina sta dormendo e noi ora dovremo parlare. Puoi lasciarci su? Sì, certo. Adesso ti racconterò tutto, ma niente panico, d'accordo? Guarda che sono sopravvissuta ad una tigre del Bengala. No, 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 no. Malvina, tu non eri in India, ma in Brasile. Tu eri in Brasile, ma adesso non importa, lasciamo stare. Dobbiamo fare molta attenzione. Quella gente conosce tutti i nostri movimenti, i tuoi, quelli dei ragazzi, tutti. Stai dicendo che hanno messo qui dentro dei microfoni per spiarci? No, 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 no. Non esageriamo. Io dico solo che è gente pericolosa, quindi stiamo attenti. Sicuramente a Bauer c'entra qualcosa, ed ora noi dobbiamo scoprire come. Allora, come hai fatto a sfidarli se loro ci possono colpire anche a distanza? No, no, vedi, io ho chiesto aiuto ad un mio vecchio amico. Ti ricordi di Lotario, il fisico? Il fisioterapista? No, il fisico quantistico. Beh, lui mi ha spiegato delle cose. In sintesi, quell'orologio funzionerebbe come un polo magnetico. A questo punto, almeno a quanto sono riuscita a capire, i cibi innestati nell'organismo dei ragazzi sono in grado di inviare e ricevere energia neurale. Ma quante cose, sai, è impressionante. No, in realtà io non so niente. Te l'ho detto, è tutto merito del mio amico. Ah, certo. E non c'è solo questo. Senti, ti ho mai parlato della resistenza? Sì, quella che ora dobbiamo fare noi. Sto parlando della resistenza elettrica. Ah. Secondo quello che c'è scritto qui, è una specie di magnete che inserito nell'orologio è in grado di bloccarne le emissioni elettromagnetiche. Inserito nell'orologio che cosa fa? Può bloccarne le emissioni elettromagnetiche. Capisci qualcosa di quello che sto dicendo? Niente. Allora, il magnete nell'orologio impedisce alle onde elettromagnetiche trasmesse da quella gente di arrivare ai chip dei nostri ragazzi. Così non possono farci niente? No, almeno finché resteranno qui dentro. Il problema nasce quando escono. E allora incateniamoli ai letti? No, non si può fare. Sono Feli, posso entrare? Devo prendere il mio libro di ricette? Sì, aspetta solo un secondo, Feli. L'otario, il mio amico, sta studiando un dispositivo che metta in grado i ragazzi di uscire senza... senza alcun pericolo. Tesoro, tu sei un genio. Non ci capisco praticamente niente. Te l'ho detto che è l'otario il fisico quantistico, no? Va bene, ma chi è che... Facciamola entrare e raccontiamole tutto, d'accordo, Feli? Aspetta, a lei no. Anzi, meglio che non lo sappia nessuno. Proviamo domani? Lo so che tra poco c'è il concorso, ma non ho nessuna voglia di cantare. Sentite, Nico ci ha detto di non uscire di casa. Sì, lo so. Ma noi dovremmo pur prendere un po' d'aria. Insomma, almeno io non... non ce la faccio stare sempre al chiuso. Ehi, tutto bene? Stavo... stavo pensando se mio padre non c'entrasse qualcosa. Ho capito, però... per quanto ne so io... è in coma irreversibile. Come può essere coinvolto? È assurdo che quei magnati siano così pericolosi. Comunque ora non possiamo correre rischi. Dobbiamo continuare a lottare. Sì, tutto quello che vuoi, però... vi rendete conto che quel portale potrebbe condurci in un'altra dimensione? Sì. È quello che è successo a cielo. Hai ragione, ragazzi. Noi stiamo qui tranquilli come se niente fosse e invece c'è un portone... quello che è successo a cielo. Hai ragione, ragazzi. Noi stiamo qui tranquilli come se niente fosse e invece c'è un portone... Un portale. Beh, fa lo stesso. È fantastico. Il libro. Mar, il libro che è caduto dal cielo, te lo ricordi? Scommetto che era per noi. Sì, potresti avere ragione. Noi dobbiamo aiutare Nico e potremmo iniziare da quello. Andiamo. Dai. Coraggio. Io vi raggiungo dopo. Andate. Matt, sono ancora io. Ti ascolto. Allora ho fatto. Hai fatto cosa? Quello che mi avevi chiesto. Ho sabotato l'impianto elettrico. Andranno a sfracellarsi. Cosa? Che significa cosa? Non era questo quello che volevi? Falli subito scendere da quell'aereo. E' tardi, Francia. Matt, sono ancora io. Richiamami nel pieno puoi, d'accordo? Tutto bene? Assassino! Lascia in pace questa ragazza! Via! Torniti di mezzo! Corri! Sei sicura di star bene, tesoro? Volevo uccidermi. Perdonami. Perdonami per il male che ti ha fatto quel mostro di mio marito. Ho visto il video, Jasmine. Eri solo rimasta impressionata almeno quanto a te. Eri solo una creatura. Io non sapevo niente, credimi. Non avevo idea che fosse stato lui ad uccidere i tuoi genitori per questione di interesse. Te lo giuro. Mi credi? Ora la mia casa è tua. Se ho deciso di lasciarla è perché è tua. E qualunque cosa ti serva. Non hai che da chiedermela come una... una nipotina. La sua zia. Perché li ha uccisi? Questo... Questo non è una risposta. Ma solo un ricordo. Viene da Malaga. Era il reliquiaro di tua madre. Ma io... Io... Io questo l'ho sognato. E adesso è tuo. Non ho fatto male a tenerlo, vero? Sembra quasi che... che ti aspettasse. Ora ti prego. Ti scongiuro. Fa' attenzione. resisti. Io farò in modo che quel disgraziato non si faccia mai più vivo. Sì. Ti aspetto a casa, Giospe. Nella tua... casa. casa. Che succede? Niente. Niente. Sta tranquilla che non è successo... Ma che... Che sono queste scosse? Ma che fai? Io vado. Linda, torna qui. Linda. Che succede? Linda. Moledetta, figura. Torni al suo posto, per favore. Stia tranquilla. È tutto sotto contro. È il motore di destra, giusto? Sì, comunque, ora vado a lasciarsi la cintura. Questa è un'emergenza. Io dovrei farcela adesso. Ah, non si addeviva, stupido! Non ti avevo detto di ammazzarla! Accidenti! Che succede, Franca? Non riesci più a farti capire o stai solo perdendo il controllo? Tutto questo ti sta divertendo, non è vero? Eh... Tu stai commettendo troppi errori. Sei tu il primo di questi miei errori! Ma sai una cosa? Io sono ancora in tempo per rimediare e so anche come. Vattene! Vattene, ho detto, per favore! Sì, sì, me ne vado! Ciao! Ehi, ciao! Tutto bene? Sì, e tu? Che c'è? Sto bene, è stata una giornata difficile, ma sto bene. Raccontami! Ho parlato con i ragazzi. Sì, insomma, ho spiegato loro la situazione che conosci e loro hanno reagito come degli adulti. È fantastico! E gli impianti non ci sono stati con seguenza? Non hanno funzionato, sta tranquillo, è andato tutto bene. E il dolore alla testa di Giacca? È tutto risolto, ci ho pensato io. E come? Ho fatto qualcosa. Cioè? Sì, ora preferirei non parlartene, così non ti preoccupi, no? No, ma che succede? Non ti fiditi meglio. Ma la fiducia non c'entra, io sto proteggendoti. Quella getta è pericolosa, quindi meno cose sai e... Certo. Però, visto che ormai sono coinvolta anch'io, mi piacerebbe sapere tutto. Andrà tutto bene, presto finirà questa storia. Io vado a fare un controllo. Sì. Dobbiamo solamente resistere. Lei, 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 qui è il volo 4-5-6. Stiamo perdendo quota. È sicuro che sia un guasto elettrico? Senta, stiazzi. E vado ad allacciarsi la cintura di Sio. Dai, adesso vieni qui, ci lanceremo con il paragono. E ti prendi la mia scatola. Ma che vuoi farci? Tu portami quella scatola e non fare domande. Per favore, signora, ora torni dietro e si allacci la cintura. Senta, è per la sua sicurezza che mi arrivi. Senta, ora... Proviamo con questo. Che cosa c'è? Ma che fai? Non tocchi niente, abbiamo già abbastanza problemi. C'è che ci si metta anche lei. Ha funzionato. Ha funzionato. Per quanto ancora dovrò prendere queste pillole? Finché non lo dirà la nostra dottorissa, tesoruccio. E voi, se volete crescere, sbrigatevi a fare merenda. Ah, buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto bene. Vado a prendere i biscotti, ragazzi. Sì, grazie. Come ti senti? Come vuoi che mi senta. È vero che non ci faranno niente? Che ci provino soltanto. Guarda qui. Eh, questi sono muscoli di ferro. Presto se ne accorgeranno. Ora, fatemi un po' di posto, coraggio. Allora, come va, figliolo? Io lo sapevo che c'era qualcosa. E adesso che tu me l'hai detto, non ho più paura. Noi ti aiuteremo, papà. Adesso questo che conto. Dammi un bacio. Ti voglio bene, lo sai. Pronto? Come hai potuto ordinare di farli fuori? No, ma io no... Sei forse impazzita? Sielo, ci serviva, viva! Sì, lo so e le chiedo scusa perché so di aver commesso un errore imperdonabile. Ed è già il secondo, mi sembra. Scopri immediatamente come ha fatto Bauer a bloccare i nostri infianti. Sì, io ci sto già... ci sto già provando. Un altro errore e sei fuori. E tu sai bene che cosa significa, vero? Rodriguez? Sì, prepara l'hanga. Oggi dovremo fare due chiacchiere con Bauer. A presto. A presto.